E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e innanzitutto buon anno in anticipo infatti stasera ci sarà il cambio passiamo dal 2023 al 2024 al 2023 di sicuro di soddisfazioni per questo canale e vi devo ringraziare tutti quanti dal primo all'ultimo per tutto il supporto tutti i commenti che mi avete lasciato sotto i video per il supporto che mi avete dato su Twitch e insomma su tutte quante le altre piattaforme quindi grazie mille vi ricordo un bel mi piace in iscrizione che sarebbe un bel regalo per concludere quest'anno anche se il canale comunque sta crescendo molto bene e sono molto contento comunque tornando al discorso di oggi parliamo di un mazzo super aggressivo mazzo non troppo costoso ma sicuramente che fa il suo è vero ha ricevuto un nerf in passato però rimane davvero ancora un'ottima scelta me l'avete chiesto nei commenti allora ho deciso di riportarlo stiamo parlando di un mazzo aggressivo naga demon hunter che ha la combo più forte all'interno della tiratrice scelta cieca infatti questa carta vi permette di iniziare a ciclare praticamente metà mazzo portando una quantità di danni spropositata verso la testa e la board dell'avversario per quanto riguarda ovviamente come funziona voi praticamente giocate questa carta una naga poi una spell poi una naga poi una spell e così via che naghe avete dovete avere ovviamente delle naghe poco costose e qui viene in aiuto di sicuro sia errore sia lanciaviscita che sono due naghe a uno ottimali tra l'altro errore può essere anche portata a zero mana grazie all'oscillatore di frequenza che ti fa costare il tuo prossimo robot uno in meno visto che errore ha tutte le tag ecco che questa diventa sia naga sia robot e quindi diventa una zero mana uno tre che vi permette quindi di andare a scombare ancora meglio con la tiratrice per quanto riguarda ulteriori naghe abbiamo il desperado assetato ovviamente che vi dà più attacco quindi ulteriori danni la saggia ribelle che comunque vi va a scontare la mano e tendenzialmente andrete a sviluppare tutta quanta la vostra board grazie a queste carte sopra citate per quanto riguarda però anche le spell le spell facilmente avrete le spell che arrivano a zero mana o che sono a zero mana se ad esempio partite con il coin ecco quello è un grandissimo vantaggio ma possiamo ottenere coin anche dalla 2 3 partner rapace che quindi vi permette no di non solo andare a scombare ma di guadagnare mana all'interno della combo il che diventa davvero molto molto forte abbiamo diverse spell da zero come assalto vile e sbarazzarsi le prove o delle spell che possono diventare a zero quindi che iniziano a costare mana come predazione che però se tu giochi una naga ecco che diventa zero lo stesso vale per slancio una volta che peschi tante carte ecco che slancio ti diventa 5 4 3 2 1 fino a costare zero ovviamente la 1 3 vi permette di ciclare tutto il mazzo e quindi slancio si va a scontare piano piano che tu giochi per quanto riguarda il mazzo necessita di card draw per trovare l'1 3 o comunque per trovare le altre carte che vi servono per la combo ecco le due carte principali sono sigillo del tempo e vista spettrale che fanno pescare rispettivamente 3 e 2 carte se si è attivato il finale per quanto riguarda le altre carte sono per aggiustarsi un pochino a mano quindi abbiamo sia serpinnus sia studi sugli lidari che ci può aiutare in diverse situazioni chiude la lista fino all'ultimo respiro carta che è stata baffata recentemente passata a 5 4 mana ecco questa carta si addice molto bene a mettersi in combo con sbarazzarsi le prove e a turno 4 riuscire magari a fare 5 danni a tutta la bordo nemica e pusharne addirittura 5 testa insomma questa è la lista fatemi sapere voi cosa ne pensate noi possiamo andare con i vari match e quindi andiamo subito con il primo game di oggi che ci vede giocare contro demon hunter molto divertente no mirror match a questo punto almeno penso che se così non ho la minima idea di che altro demon hunter possa essere un relic un highlander però insomma credo che sia davvero e possa essere un naga la mano non è ideale però abbiamo tantissimo card draw quindi abbiamo già il nostro turno 2 abbiamo già il nostro turno 3 e poi è turno 4 potremmo iniziare a pensare addirittura di poter andare a scombare ecco se dovesse essere un naga l'avversario ovviamente il coin il partire con il coin è davvero fortissimo in questo deck ne abbiamo parlato prima no? nella analisi del mazzo vuol dire avere una marcia in più perché vuol dire avere non solo una spell a 0 in più ma una spell addirittura che ti da mana e quindi che ti permette di giocare altre nage vediamo che l'avversario parte con non solo l'1-3 ma anche il 2-1 decide di andare a tempo questa spell a 0 così forse sprecata addirittura mi sembra eccessiva come cosa ma va bene che siamo noi per andare a giudicare ovviamente la naga a 2 non fa niente in quanto a sinistra abbiamo una spell a 0 a destra abbiamo una spell a 2 che comunque andrà a 0 quando giochiamo a una naga quindi inutile scontare qui continuiamo a pescare prossimo turno abbiamo una cosa come 10 carte in mano e valutiamo se andare già a scombare nel caso in cui dovesse andare a trovare l'1-3 nel caso invece in cui non la dovesse andare a trovare magari possiamo fare un turno di transizione 1-3 che abbiamo trovato a dire è vero trovato anche l'esperado uscì l'atore però è molto forte allora a questo punto io direi che possiamo fare un ultimo turno in cui esitiamo in cui aspettiamo l'avversario per poi andare di full combo a turno dopo giocherei anche la naga 2-2 intanto di nage ne abbiamo davvero un'infinità in mano e non ci dovrebbero servire peccato non aver ancora trovato l'1-3 con appunto la melma però magari più avanti ciclando con la 1-3 la dovremmo riuscire a andare a trovare visto che abbiamo pescato davvero come dei folli l'avversario continua a giocare estremamente tempo io non so se abbia senso giocare in modo così aggressivo anche perché ora non solo ti vado a distruggere completamente tutto a borre ma ti arrivano una quantità di danni infiniti in testa quindi partiamo con la 1-3 possiamo andare a giocare la naga 1-3 che ovviamente si andrà a baffare piano piano che andremo a giocare le spell assalto vile è comunque discreta ci dà assalto sull'1-3 soprattutto una spell a zero che possiamo andare a trovare abbiamo trovato anche l'1-3 che questa volta non solo appunto non ci costa mana ma appunto essendo una naga ci continua a far ciclare tutto spell a 2 sul 3-4 vediamo se lo riusciamo a traddare con la 1-3 esatto ok questo è il caso andiamo a spingere questi danni testa inutile andare a fare qui la spell a zero abbiamo doppia 1-3 in campo andiamo a chiudere al prossimo turno qui la partita si può già definire conclusa solo se l'avversario dovesse avere la 1-3 potrebbe cambeccare ma io vedo che sta andando con la spell a 1 e alla disperata ricerca della 1-3 non arriva qua va a giocare errore totalmente inutile già cercare un'ulteriore naga da quella spell lì ma ormai non ha più mana e quindi si deve arrendere che dire abbiamo... cioè se è un giocata diversa lui l'avversario ha deciso di aggredire ma in questo matchup l'importante è pescare alla fine è difficile andare a chiudere con questo deck nei primissimi turni è molto più semplice andare a pescare trovare la combo e passare enormemente in vantaggio quello che abbiamo fatto noi due linee diverse due giocatori diversi e niente insomma è il risultato poi si è visto direi che ci possiamo buttare con la seconda partita cercando ovviamente la seconda vittoria consecutiva di oggi che ci vede giocare contro Mage Mage ormai lo conosciamo Sif Mage lo possiamo tranquillamente stompare con la nostra combo tra l'altro che abbiamo in mano abbiamo tutto abbiamo l'oscillatore a turno 1 che ci va ad ebaffare l'orrore che passa a zero mana abbiamo la tiratrice che non dobbiamo nemmeno andare a cercare abbiamo una predazione che andrà a scontarsi a zero insomma turno 3 qua capiamo che potremmo già decidere di partire soprattutto con quel coin che ci è arrivato in mano Mage Mage che salta addirittura su turno 1 questo è una pessima notizia per il mago noi possiamo andare di oscillatore abbiamo trovato anche il 2-3 che ci darà il coin mano migliore di questa io davvero non credo di poterne vedere nelle prossime partite perché davvero tanto tanta roba il 2-3 è fortissimo in questo spot ci dà il coin slancio comunque buono perché alla fine diventerà una spella a zero con tutta probabilità portiamo questi due danni tra l'altro testa quindi è una partenza comunque aggressiva perché stiamo mettendo board che il mage non ci riesce a canterare deve andare per forza a fare hero power per toglierci il mech va a giocare un 2-1 ovviamente per ulteriori danni noi troviamo l'ennesima naga in questa situazione e direi che possiamo già andare a partire andiamo a giocare un 1-3 andiamo a ovviamente scusate a giocare anche l'errore andiamo a fare il coin così prendiamo mana andiamo a giocare il secondo 1-3 troviamo un altro errore andiamo di coin andiamo di secondo errore a questo punto abbiamo trovato tra l'altro un altro 1-3 cosa divertentissima qui andiamo a farci 4 attacco vogliamo andare a utilizzare altre spella a zero in questa situazione io credo di sì per quanto riguarda il buff alla 3-4 in modo da spingere comunque un danno in più lasciare comunque un servitore con vita più elevata e qui credo che sia scacco matto perché l'avversario con il nerf della 3-4 che fa danni in base alle diverse scuole di magia che ha giocato non lo può giocare più in quanto costa 5 e quindi non può rimuovere la board noi avevamo ulteriori danni in mano e niente seconda vittoria è davvero troppo semplice questo mazzo come vedete se sapete fare un maligan buono se avete un'ottima mano ecco che chiude tranquillamente a turno 3 e questo capite che non è esattamente la cosa più sana del mondo però va bene noi andiamo avanti andiamo con il terzo game che vogliamo inanellare una serie di vittorie che ci piace sempre giochiamo contro Rogue Rogue avversario tosto senz'altro partner abbiamo visto quanto può essere forte tuttavia io forse andrei a cercare la 1-3 però no d'altronde abbiamo anche la spella 3 quindi partner troverà sempre il gioco ok doppia spella 3 forse un po' troppo non partiamo con l'oscillatore peccato non averla ma noi prima ma lo accettiamo andiamo a fare hero power attacchiamo testa e qua siamo alla ricerca di una carta 2 la carta 2 che deve per forza arrivare per attivarmi quel partner che se no rischia di non trovare una grande value l'avversario parte benissimo va di 1-3 noi troviamo un errore che purtroppo in questa situazione non ci aiuta direi che possiamo andare di spella 1 troviamo a vista spettrale che forse era una dei migliori carti che volevamo andiamo a pescare due carte slancio assalto vile non sono esattamente quello che forse voleva andare a predilire il coin tremana va a giocare a 4-4 pazzesco ecco stiamo giocando contro la migliore start la migliore mano possibile che abbia il rog coin 1-3 e 4-4 che gli da il secondo 4-4 che va a disotterrare 2 eccetera eccetera ecco non possiamo fare nulla contro questa mano l'unica cosa che possiamo fare è cercare di assorbire i danni che ci andrà a fare sperare che non trovi delle robe troppo forti dai di sotterra e cercare di fare il più possibile ma vedo che l'avversario continua a scurvare in una maniera incredibile 8 inservitori stanno andando a trovare qua ci porta davvero tanti danni e ha fatto una board di tutto rispetto noi qui andiamo a pescare comunque tre carte non vogliamo demordere dobbiamo trovare la 1-3 1-3 che arriva però ovviamente non possiamo andare a giocare ora troppo presto andrei di 2-1 a me piace sapete tantissimo andare a giocare qui la spella 3 per andare a scombare ancora di più con la 1-3 a turno dopo quindi a questo punto possiamo andare di spella 3 possiamo andare di oscillatore in questo caso andremo a millare una carta quindi possiamo andare semplicemente di spella 0 andare a traddare la 2-3 che gli dà i draghetti che comunque sono fastidiosi e passare a questo punto il turno abbiamo 6 carte in mano al prossimo turno ne peschiamo una più altre 3 andiamo a 10 e possiamo andare a scombare purtroppo non abbiamo il coin che è la cosa che mi fa più rosicare di questa partita l'avversario tra l'altro ci va a far millare con una giocata egregia del canarino va bene non è un grosso problema draghetto felice anche è fastidioso in quanto saranno ulteriori due danni che non andranno a testa questi e soprattutto l'avversario ci porta tanti danni sulla nostra faccia andiamo a 11 carte vediamo cosa andiamo a millare saggia ribelle è fine a fin dei conti possiamo partire di 1-3 andrei anche a mettere sto pensando se abbia senso andare a giocare l'oscillatore però avendo la seconda 1-3 in mano a questo punto possiamo tranquillamente aspettare andrei di spell a 0 andrei a rimettere il da 3-2 che è la naga più pesante in questa situazione possiamo andare a giocare anche la 1-3 andiamo a fare nuovamente la spell a 0 abbiamo trovato anche assalto vile come spell a 0 che è buona lancia viscida è ottima sicuramente meglio dell'orrore quindi andiamo a giocare anche lei andiamo a dare la spell a 0 su lancia viscida no perché preferisco che abbia più vita possibile l'heel trade è stato ottimo era sicuramente meglio che sul 3-2 possiamo spingere questi 7 danni ci teniamo la spell a 0 per il turno dopo per ottimizzare magari i danni delle 1-3 ragazzi che turno abbiamo fatto mage rogue probabilmente qua ha perso 1 perché deve andermi a traddare l'1-3 e se fa questo turno vuol dire che non ha un modo per traddarmi ma va a giocare un 6-5 breakdance capite il turno tremendo di avversario per potermi traddare una 1-3 il problema è che non sa è che di 1-3 ne giochiamo 2 e l'altra è nella nostra mano quindi direi che possiamo tranquillamente partire andiamo di 1-3 in questa situazione possiamo andare a fare la 3-2 che ci dà più attacco a questo punto possiamo andare di spell da 0 visto che non abbiamo trovato nessun'altra spell qui possiamo rimettere nella mano nel mazzo partner che non ci è servito a nulla fin dei conti possiamo andare anche a giocare l'ultima naga e spingere questi danni testa purtroppo che sfiga non poter giocare qua ci bastava davvero una spell a 0 che cambiava tutto quanto perché erano tantissimi danni sarebbe stato quasi di tal bastava un'ulteriore spell a 0 e qui appunto potevano giocare la spell a 5 se i due danni andavano testa era gg vabbè ma comunque credo che sia gg lo stesso va a giocare la mossa disperata della 4-3 che tra l'altro ho trovato in top deck e qui lo salva solo il segreto a 3 però di sotterra a 3 però mi sa che non ce l'ha va a trovare comunque il taunt che è un signor servitore ci va a fare il trade va a fare addirittura shadow step per tradarci credo la 3-2 rimasta noi abbiamo l'ital si io credo che abbiamo sempre l'ital qui devo solo trovarla allora abbiamo gli 1-3 che si vanno a buffare predazione sicuramente non è male la spell a 4 ci fa tradare quasi nulla dire è vero possiamo fare il trade lì hp viene tradata le nage sono delle 2-3 sono 3-5 sì allora basta in verità andare a fare la spell a 2 in verità qui potremmo anche giocare una naga completamente a caso a dire è vero per farla scontare a 0 non cambia nulla andiamo a rendere 2-2 il taunt a questo punto possiamo andare a fare hero power più spell a 4 in questa maniera andiamo a tradare tutta quanta la borna emica le nage diventano delle 3-3 che sarebbero 9 danni l'avversario era 8 avevamo anche il decimo danno poi tra l'altro dato dall'altro 1-3 che era l'errore che sarebbe rimasto appunto così senza ulteriori buff ragazzi terza vittoria consecutiva di oggi io credo che ci possiamo fermare qui quello che dovevo dimostrare l'ho dimostrato il mazzo è davvero molto molto forte un deck che merita sicuramente tanto un deck che fa il suo potremmo dire vi auguro nuovamente nuovo anno e noi ci vediamo nel 2024 con un nuovo video sempre alle 13 ciao ciao